C'è un sospettato per le lettere anonime nei confronti del Vescovo della Dioci, si dite Giano Policastro, Antonio De Luca. Si tratta di un ex seminarista, le cui generalità ancora non sono state rese note, ma che è originario del Vallo di Diano. Nella sua abitazione, nei giorni scorsi, i carabinieri su ordine della Procura di Lago Negro hanno effettuato un'espezione e hanno trovato notevole materiale per le indagini ed è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione aggravata, non per le lettere, almeno per ora, bensì per diffamazione tramite Facebook, ma bisogna andare per ordine e capire come si è arrivati all'indagato. Nei mesi scorsi sono arrivate, alle forze dell'ordine, ai vertici della Chiesa Nazionale e Regionale e a soggetti diversi, lettere anonime dai contenuti sconcertanti. Nelle missive si è potuto leggere che il Vescovo e numerosi preti della diocesi di Deggiano Policastro partecipavano a festini anche a sfondo omosessuale, addirittura nella sede del Vescovato a Teggiano. Accuse infondate tanto che il Monsignore e gli stessi parroci citati nelle lettere hanno presentato denunce ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina nel giugno di quest'anno. I militari dell'arma, guidati dal capitano Davide Acquaviva, hanno dato vita a una serrata serie di controlli e sono riusciti a stringere il cerchio attorno al sospettato. Secondo quanto ricostruito, il movente della diffamazione potrebbe nascere da una precedente denuncia del Vescovo nei confronti dell'ex seminarista per una violazione di domicilio nel 2016. Appare questa un'ipotesi investigativa e altre piste su eventuali ulteriori moventi, anche economici, sono in corso con l'attenzione della Guardia di Finanza. Gli inquirenti hanno cominciato a studiare il sospetto scoprendo che è l'intestatario di un profilo Facebook fasullo dal quale partivano commenti denigratori nei confronti del vertice della chiesa del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Sono almeno sette le persone offese, oltre al Vescovo, ci sono anche sei presli del Vallo di Diano e vengono elencati nelle lettere anonime inviate. La foto di una delle lettere viene pubblicata come commento al posto del gigolò Francesco Manciacapre, autore di almeno un dossier su feste a luci rossi dei preti non solo della regione Campania. Secondo gli inquirenti, il profilo Facebook anonimo è associato al sospettato e c'è il forte sospetto che possa esserne anche l'autore di quelle lettere. Da qui l'iscrizione nel registro degli indagati per diffamazione aggravata. Per ora l'indagine verte sull'uso del profilo anonimo, ma l'ispezione a casa ha fatto scoprire agli inquirenti, all'interno di una piccola cassaforte, documenti e lettere ritenute molto interessanti dagli investigatori, con accuse sempre nei confronti degli uomini della chiesa. Le indagini sono ancora in corso, così come lo studio del materiale, interessante, trovato nell'abitazione dell'ex seminarista. Di pari passo continuano gli accertamenti, anche informatici e finanziari. Grazie per la visione!